ciao a tutti oggi abbiamo le pesche le peccocche si chiama percocche percocche ci ha dato la nostra amica maria allora sai cosa faccio volevo fare la mammellate in questi giorni oggi cosa faccio ti faccio in basilicata anzi benvenuti in basilicata è la terra molto bella e abbiamo tantissimi prodotti locali per esempio qui da noi nella nostra zona abbiamo le peccocche è molto buono e si mette dentro il vino allora sai cosa faceva mio socio e lui facciamo così di mettere le pesche la buccia la buccia le pesche le peccocche e ci mette dentro vino vino alienico noi abbiamo vino ottimo nella nostra zona vino alienico è molto buono molto pregiato tagliamo pezzettini così facciamo il e poi e ci mette vino anzi questo vino fatta in casa vino alienico così e la cosa faceva la mia socia prendeva con lui lo prendeva con cortello così e la mangia visto com'è provateci è buonissimi e venite a visitare la nostra terra la basilicata allora assaggiamo è buonissimo provatelo buonissimo buono buono buonissimo buono vino buono peccocche veramente buono e provatele e in questo giorno faremo la mamenlata di peccocche venite visitare il nostro sito penko leo le ricette di jai savan amiamo tanti ricetti così seguiteci commentare e cliccate mi piace il commento a noi ci piace moltissimo ciao alla prossima